Ben ritrovati alle consuete previsioni meteo, torna il sole in capitanata, affoggia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge, durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29 gradi, la minima di 14, i venti saranno al mattino deboli e proverranno da est e al pomeriggio tesi e proverranno da est. Per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.